Eccoci, partiamo dal capitano o dal mago? Dal capitano. Capitano, com'è andato il mago, il giovane mago? Ma direi abbastanza bene. Oggi pronti via, stava bene, ho visto che mi ha tirato subito il collo, aveva un bel ritmo. Poi la seconda salita, siamo ancora saliti bene. La terza poi abbiamo avuto un attimo un calo, abbiamo perso due o tre posizioni, però alla fine abbiamo cercato di tenere duro fino alla fine. Non facevamo scintille tutte e due oggi, però alla fine le gare sono gare e cerchiamo di recuperare qualcosa magari domani. Mago, la tua gara è stata soprattutto nel finale, tra virgolette, un calvario? Sì, lui parla al plurale, giustamente dice siamo calati, in realtà sono calato io, le gambe mi hanno abbandonato sulla seconda, terza salita per andare al sigaro e ho partito un po' il finale di gara, mi ha aiutato Manfred cercando di evitare tanti minuti da quelli davanti, domani proviamo a recuperare qualcosina. Senti, com'è gareggiare con un capitano, con la sua esperienza? E' un po' preoccupato, però dai, ho visto che meno male siamo gli abbastanza uguali, speriamo domani di essere in forma tutti e due, così possiamo fare una bella gara se stiamo bene tutti e due.